Nel solco della tradizione, Ferrari ha svelato la sua ultima supercar a distanza di 40 anni dalla mitica GTO. La nuova Ferrari F80 inaugura un nuovo capitolo nella leggendaria storia del cavallino rampante dopo F40, F50, Enzo e la Ferrari. Alla costante ricerca delle massime prestazioni sfruttabili quotidianamente e innalzando l'asticella in termini di tecnologia e design. Il nome F80 celebra l'ottantesimo anniversario dell'azienda che ricorrerà nel 2027 quando la produzione dei 799 esemplari previsti per la F80 sarà completata. Il design ispirato alla fantascienza è di rottura ma le forme sono sempre dettate dalle funzioni che ogni componente deve svolgere per garantire le prestazioni estreme di cui la F80 è capace. Il V6 di 120 gradi scelto per l'ultima supercar del cavallino, derivato dalla Formula 1 e dalla 499P ma completamente riprogettato, sviluppa 900 cavalli per una potenza specifica da record di 300 cavalli litro, ai quali si aggiungono i 300 cavalli del sistema ibrido per complessivi 1200 cavalli e 800 Nm di coppia massima sulle quattro ruote motrici. La F80 è così la Ferrari stradale più potente mai prodotta, capace di fondere la potenza pura del motore termico con l'efficienza della tecnologia ibrida. Le prestazioni sono mozzafiato, 0-100 orari in 2,15 secondi, 0-200 in 5,75, da 200 a 0 in meno di 100 metri, 98 per la precisione e una velocità massima di 350 orari ma soprattutto un tempo sul giro a Fiorano in 1,15 e 3, due secondi meno della Ferrari. Ferrari ha integrato tecnologie rivoluzionarie come il sistema i-turbo a 48 volt che azzera il turbo lag e un'innovativa batteria ad alta efficienza ponendo la F80 al vertice dell'eccellenza tecnica. Sulla F80 debutta anche la stampa 3D con additive manufacturing per i componenti più leggeri come i bracci delle sospensioni che permettono di risparmiare masse non sospese per un totale di 1.515 kg a secco e un rapporto peso-potenza di appena 792 g cavallo. Capacità ingegneristiche di Ferrari si riflettono anche nelle innovazioni aerodinamiche ispirate alla Formula 1 e all'endurance. L'ala mobile, l'estrattore di oltre 130 cm al posteriore, il fondo scolpito e tridimensionale, il triplano e l'es-duct anteriore permettano all'F80 di generare un carico aerodinamico verticale di 1050 kg a 250 all'ore, 460 all'anteriore e 590 al posteriore. Queste soluzioni abbinate alle sospensioni attive, alla sala anteriore elettrico e ai nuovi freni con tecnologia CCMR Plus garantiscono velocità e stabilità senza precedenti. 3. Le modalità di guida selezionabili con un le manettino Hybrid Performance Qualify. Il design della F80, curato dal team del centro stile Ferrari guidato da Flavio Manzoni, è altrettanto spettacolare. Le linee futuristiche aerospaziali della vettura si fondono in un abitacolo che ricorda un jet da combattimento. Il cockpit è caratterizzato da una disposizione unica 1+, ovvero con due posti sfalsati di 50 mm, offrendo un'esperienza di guida incentrata sul pilota senza compromettere il comfort del passeggero. Una scelta nata dall'esigenza di limitare la larghezza per ridurre il drag e contenere il peso. Prodotta in soli 799 esemplari, tutti già assegnati ad altrettanti fortunati clienti che sborseranno 2,95 milioni di euro più tasse, la F80 è già destinata a diventare un pezzo da collezione iconico. L'inizio della produzione è previsto per il prossimo anno e le prime consegne entro fine 2025. Per i clienti rimasti in lista d'attesa resta la speranza di una possibile futura versione aperta.